Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori troncatrici radiali. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Metabo KGS216. Nella quarta posizione nella nostra personale Leading 5 sulle migliori seghe a mitra radiale troviamo una versione aggiuntiva che appartiene alla lista di controllo di grande successo dell'anno. La tenacità di questo prodotto è la sua eccellente mobilità. A causa di un peso invece basso per dispositivi di questo tipo 14 kg. Anche le dimensioni sono piuttosto piccole 820 x 543 x 355 mm. Al numero 4, abbiamo Boccio Main Garden. Se per scegliere come selezionare una buona mitra radiale abbiamo solo contato sulla potenza dichiarata, molto probabilmente finiremmo per ignorare versioni Boccio come questa, che indipendentemente dall'avere una potenza ridotta di 1200 Watt, sono piuttosto in grado di fare il loro compito in modo impeccabile. Con risultati spesso superiori a quelli dei progetti con poteri teoricamente maggiori. Questo perché la lama dimensioni di 190 mm con foro di 30 mm è di eccezionale qualità superiore e il motore è uguale alle sue dimensioni. Al terzo posto, abbiamo la EINEL 4300825. Se fai da te la tua passione e scegli di costruirti invece di acquistare, quando fai una decisione che il minatore radiale ha visto acquistare, non fare affidamento sulle offerte, tuttavia vai con versioni di innegabile alta qualità, simili a questa. Dotato di potenza mondiale, 2350 Watt, ha una lama in acciaio difficile specializzata di alta qualità che può essere inclinata di 45 gradi sia. Al numero 2, abbiamo il Boccio Professional 0601B19100. La Boccio internazionale tedesca è in realtà in funzione da oltre 130 anni in diversi mercati di produzione, nonché è il più grande produttore mondiale di pezzi di ricambio e pezzi di ricambio per automobili. Tra i vari rami c'è inoltre quello relativo alla produzione di dispositivi di alimentazione e accessori rilevanti. Dove occupa un'area di preminenza in tutto il mondo? La sega a mitra radiale GCM8S lunga L appartiene alla linea Boccio Expert. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il troncatrice radiale. Hai attualmente esaminato i disegni precedenti, ma hai scoperto con delusione che non sono espressamente fatti per ridurre tronchi, rami e altri oggetti di legno? Se la riduzione di questi materiali è inoltre una tua esigenza, non preoccuparti. Infatti, concludiamo la nostra testimonianza con quella che il nostro team ritiene sia la migliore sega a mitra radiale per legno tutto naturale. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.